Un treno rosso-vermiglio, una moto rosso-fuoco, un'alchimia perfetta fatta di velocità e di passione. L'immagine del campione del mondo di motociclismo 2022 svetta sul Frecciarossa di Trenitalia, la livrea speciale dedicata a Ducati Corse è stata presentata alla stazione di Roma Termini. Ritrae il pilota Francesco Bagnaia e la sua moto Desmo 16 2023, con il numero 1 e la bandiera tricolore, due simboli dell'italianità nel mondo. Mobilità.news ne ha parlato con l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Luigi Ferraris, che ha sottolineato lo stretto connubio tra il campione del mondo ed una compagnia che guarda sempre più all'ambito internazionale. Direi per noi è un motivo di orgoglio poter freggiare il Frecciarossa della Ducati, di un campione del mondo, come abbiamo visto prima. Quindi far correre questo treno per l'Italia rappresenta una bella promozione, ma soprattutto direi oggi è un momento di orgoglio per l'Italia perché mettiamo assieme due eccellenze. Noi siamo in Spagna, abbiamo lanciato recentemente l'alta velocità con i nostri Frecciarossa, stiamo facendo bene, colleghiamo già Milano con Parigi, insomma siamo già proiettati in una dimensione europea in cui l'alta velocità vedrà come mercato di riferimento all'Europa. Il gruppo FS e Ducati sono simboli dell'italianità nel mondo, cento anni a testa e non sentirli, sulla livrea del treno un pilota di 26 anni, il più veloce del mondo. Che valore ha per i giovani? Per i giovani è che non c'è futuro senza storia e non c'è futuro senza progresso, innovazione e tecnologia. Oggi abbiamo un bel esempio di come aziende tutte italiane possano far bene investendo sulle persone prima di tutto, sulla tecnologia e mettendoci il cuore da italiano con grande passione.